Ti piacerebbe trasformare la tua passione per i viaggi in un lavoro? Ciao, io sono Andrea, travel blogger professionista dal 2009 e autore del libro Professione Travel Blogger, giunto alla seconda edizione e disponibile in tutte le principali librerie italiane, anche online. Grazie alla mia esperienza decennale, che mi ha permesso di essere considerato come uno dei blogger di viaggi più influenti in Italia, ho deciso di mettere le mie competenze a disposizione di tutti, in modo che chiunque possa realizzare il proprio sogno di vivere viaggiando. Leggendo questo libro imparerai ad aprire un blog, acquisirai un metodo per scrivere articoli di viaggio utili e interessanti per i tuoi lettori e capirai come posizionarli nella prima pagina di Google. Troverai tattiche e strategie per diventare un travel influencer su Instagram, imparerai a gestire al meglio gli altri social network e creando anche sponsorizzazioni efficaci e acquisirai gli strumenti per realizzare ottimi video per YouTube. E scoprirai anche come proporre collaborazioni vincenti alle aziende e guadagnare con il tuo blog di viaggi. All'interno di questo libro troverai inoltre approfondimenti di grossi esperti di web marketing che con i loro interventi hanno impreziosito questo volume. E grazie a Professione Travel Blogger diventerai un blog di viaggio professionista, proprio come me. E ricorda, come disse Raclito, bisogna volere l'impossibile affinché l'impossibile accada.